chiudiamo gli occhi a 5 ore 1 2 3 chiudi gli occhi 1 2 3 il risultato e io sono molto felice molto felice sì, stiamo sperando 2, 3 è un'emozione molto grande è un'emozione molto grande è un'emozione molto grande è un'emozione è un'emozione è un'emozione che ha da un po' di più ha la faccia contro la parete vedi la mano in base mentre vedi di profilo solo che ha accoggiato questa è la testa dell'altro a la manina si, vedi, ah, le manina sulla destra, si, e sempre vedo il musetto e si vedi il musetto sui sucuti dice mamma, io non so mamma, io non so mamma, io non so mamma, io non so mamma, guarda che si prendono per male, che belli, allora prima ti hai infilato un dito nell'occhio, adesso ti invoca, sorrisone mamma, grazie a tutti 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 Nya nya nya, nya nya, nya nya nya, nya nya nya, nya nya nya, nya nya, nya 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 nya. Eh? Quetta se nomme omo? Eh? Quetta se lo se nye guapo? Ero? Di adios Gabriele, di adios, adios. Adios. Adios, 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 adios. Hasta la vista baby Hasta la vista baby No No